Continuiamo a pregare insieme in questo momento di pandemia, per gli ammalati, per i familiari, per i genitori con i bambini a cassa, ma soprattutto io vorrei chiedervi di pregare per le autorità. Loro devono decidere, e tante volte decidere su misure che non piaccono al popolo, ma è per il nostro bene. E tante volte l'autorità si sente sola, non capita. Preghiamo per i nostri governanti che devono prendere la decisione su queste misure. Che si sentano accompagnati dalla preghiera del popolo.